Gran Turismo o Supercar? Un dilemma per pochi facoltosi. Per chi vuole una sportiva da potersi godere tutti i giorni con ottimi tempi sul giro in pista, Ferrari risponde con la Portofino M. Sorella cattiva della Gran Turismo Portofino, la variante M si leva alla nomea di Ferrari economica grazie a prestazioni da vera supercar. Sotto al cofano batte il V8 biturbo di Casa Maranello, un motore che non ha bisogno di presentazioni, che viene da quattro anni di fila proclamato motore dell'anno. Una novità presa in prestito dall'ultima nata del cavallino, la Ferrari Roma, con la quale condivide anche il cambio a doppia frizione, il più veloce mai montato su una Ferrari. I numeri parlano chiaro, non ci troviamo più solo su una GT. La piacevolezza d'uso, quella che ti permette di vivere una vettura come la Portofino M tutti i giorni, viaggia di pari passo con la sportività. L'ambiente è comodo e lussuoso, come deve essere una Gran Turismo. I sedili sono contenitivi ma senza esagerare. Non può mancare poi il tetto apribile, visto il nome che porta. Bastano una manciata di secondi e ci si trova abbracciati dal vento, su una Ferrari. Un'emozione che gli appassionati dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Ma tornando a lei, cos'è quindi Ferrari Portofino M, una supercar o una GT? La risposta è entrambe. Tutto quello che rappresenta il cavallino, sportività, lusso, emozione e piacere di guida, è raccolto su questa roadster ad alte prestazioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS